Cominciamo questa mattina a parlare di un festival a cui siamo molto affezionati, che ci piace molto ed è filo per filo, segno per segno. È la quarta edizione, il festival delle arti che contamina la città in modi sempre belli, piacevoli, ma anche stimolanti che ci fanno un po' venire voglia di ascoltare i ragazzi più giovani e tornare noi stessi un po' più giovani e meravigliarci per quello che ci accade attorno. Ovviamente quest'anno è un anno un po' particolare e anche l'edizione di filo per filo, segno per segno sarà un po' particolare, ma ci facciamo raccontare tutto questo dal nostro ospite che è Damiano Scarpa, presidente di Alcantara Teatro. Ciao Damiano, buongiorno. Ciao, grazie mille per l'invito. Allora sì, il festival, come hai detto tu, è una voglia, un'esigenza di contaminare la città con il pensiero dell'infanzia e dell'adolescenza. È chiaro che i primi due anni sono stati due anni felici felici perché abbiamo potuto portare la voce dei ragazzi nella città. L'anno scorso è stato un momento abbastanza complesso in quanto nessuno di noi poteva pensare una cosa del genere e quindi ci ha spiazzato ma comunque abbiamo tentato di utilizzare al meglio quello che si poteva fare e quest'anno diciamo che abbiamo tentato di partire un po' tra virgolette preparati perché sapevamo che quella poteva essere un limite e abbiamo tentato di valutare il limite non come tale ma come possibilità. Realizzare quasi una forma di teatro delle possibilità. Che cosa posso fare? Pensando di vedermi in presenza ma vedermi anche online. Quindi il limite diventa diciamo esso stesso parte della narrazione in un certo senso. Per forza perché sennò diventa un qualcosa che senti come una palla al piede giustamente. Quindi la cosa importante era considerare il nostro tempo non come un tempo di attesa ma come un tempo vero del qui e ora come di fatto è il teatro. Che cosa è successo? È successo che abbiamo tentato di fare in modo che i ragazzi potessero essere protagonisti fino in fondo di un progetto, di un'idea, di possibilità che potevamo avere utilizzando anche chiaramente i canali informatici. Questo ci ha portato a sviluppare un progetto ancora di più lungo un anno. Che non è che non si sviluppa solo nel momento finale dove tu comunica all'esterno il prodotto che hai realizzato durante l'attività educativa formativa e quindi le performance e via di seguito. Ma in effetti diventa un lavoro che dura un anno. Cioè un progetto che dura un anno. A settembre è partito ed è partito in un certo modo perché bisognava cambiare la metodologia di lavoro con i ragazzi per poter arrivare a dire forse questo lo posso fare. Ecco perché ricordiamo così anche chi ci ascolta il festival comincia diciamo l'evento di apertura il prossimo 14 maggio prosegue fino al 2 luglio ma come hai anticipato tu in realtà è stato un anno di lavoro cominciato a settembre. Come è stato lavorare quest'anno? È stato da un lato bisognava trovare come dicevo prima una nuova modalità che non è una distanza che non è basato sulla distanza la dad è già è già una contraddizione nel termine ma ma è basato sulla relazione ma sulla relazione forte se io non riesco andare oltre lo schermo vuol dire che effettivamente non sto arrivando alla persona che è di là che ha un nome e un cognome e che è con me in quel momento che lavora. Quindi diciamo che molto è stato fatto online e quindi che cosa è successo? Abbiamo spostato dei tasti io non so se questo si chiama teatro ma forse anche sì come dicevamo prima no? Abbiamo spostato i tasti abbiamo lavorato per esempio con gli adolescenti moltissimo sulla scrittura sull'autobiografia e qui è nato sono nate delle cose dei progetti mica male uno concentrato in collaborazione con il palloncino rosso concentrato sulla colonia novarese e questo lavoro ha portato a realizzazione di un testo per il proprio che si realizzerà che verrà stampato in questi giorni la tetralogia della colonia e quattro testi teatrali dove venti ragazzi hanno in effetti si sono piazzati lì e hanno maturato un loro modo di narrare la colonia. Poi con altri gruppi di ragazzi sempre adolescenti mi hanno lavorato sulla poesia sulle possibilità delle parole e scegliere le parole giuste per raccontare immagini e anche qui sono nati dei progetti e anche qui è nata un'altra collaborazione molto bella con la Fulmino Edizioni che ci pubblica il testo realizzato con questi ragazzi sulle poesie ecco poesie che non sono staccate da tutto il resto cioè poesie che verranno utilizzate poi per la performance e quindi arriviamo finalmente a questo festival dove c'è un momento di comunicazione momento di comunicazione che parte questa settimana con a scuola di libertà. A scuola di libertà è una delle quattro sezioni del festival dove quest'anno i ragazzi gestiscono una vera e propria redazione e ospitano personaggi che loro stessi hanno identificato e hanno scelto perché interessanti sotto vari punti di vista cominciamo con Gagliano poi continueremo con la Vicario no scusa prima c'è Brunori poi Vicario quindi nomi niente male Brunori è un bel nome insomma non che gli altri però per dire no forse con un po' più conosciuto dal grande pubblico quindi i ragazzi hanno insomma desiderato puntato in alto e ci sono arrivati Certo e la nostra volontà è quella proprio di non esserci nel senso che è giusto che se loro hanno scelto di dialogare con loro siano loro i protagonisti in totale libertà e dialogo con i soggetti da loro invitati Mi accennavi anche di un particolare tipo di comunicazione che riguarda le locandine sparse per la città che quest'anno non saranno con diciamo semplicemente la pubblicità richiamo al festival ma con delle frasi particolari Sì allora quest'anno il festival è interamente dedicato al tema della libertà ogni anno c'è una parola chiave che un po' riassume tutto il lavoro dei 160 bambini e ragazzi che lavorano attorno al laboratorio stabile Alcantara Allora sì fra poco usciranno nelle bacheche che sono abbastanza vuote In questo periodo purtroppo Escono dei manifesti da una parte con le frasi sulla libertà dette dai ragazzi e dall'altra con le immagini di Antonio Catalano un nostro grande amico e un grande artista oserei dire E poi se non ricordo male tra l'altro approfitto per ricordare chi ci ascolta che sul nostro sito su newsrimini.it e sulla pagina di Rimini Sociale c'è un articolo, un post con tutto il programma del festival un programma davvero ricchissimo e articolato ma tra le davvero tante cose se non ricordo male c'è anche una segreteria telefonica un po' particolare è vero, mi sono dimenticato Allora sì ma si può chiamare già da adesso guarda se vuoi ti do anche il numero al numero Assolutamente 0549886525 Cosa succede? Chi chiama questo numero? Allora di fatto è così di solito si lavora sulle fiabe lì si lavora sulle fiabe di solito le fiabe venivano raccontate dagli adulti ai bambini prima di addormentarsi adesso ci siamo concentrati sull'opposto sull'autogestione anzi sui regali da fare agli adulti che forse leggono poche fiabe quindi chiamando quel numero avremo la possibilità di ascoltare storie fiabe raccontate da bambini e ragazzi del laboratorio stabile in questo momento c'è la segreteria telefonica perché parte il 15 maggio il lavoro sulle fiabe raccontate Poi sto scorrendo un po' l'articolo appunto con tutti gli eventi vi faccio qualche domanda sulle cose in particolare che mi colpiscono vedo ad esempio che c'è un lundici giugno del filo sognare la proiezione del teatro degli atti proprio il lavoro di Alcantara teatro Quello è un lavoro molto interessante nel senso che è stato realizzato l'anno scorso prima della pandemia e abbiamo lavorato con gli bambini e ragazzi per la prima volta anche con gli adolescenti attorno a delle domande chiave sul sogno quali erano i desideri i grandi desideri grazie a 40 minuti di fatto di documentario che verrà proiettato si legge uno spaccato una realtà dell'infanzia e dell'odescenza del territorio mica male è un lavoro interessante rispetto a un pensiero che cosa pensa il bambino e il ragazzo attorno al sogno ma il sogno è anche la gestione della vita del desiderio quello che vorrei fare forse un domani o forse anche adesso Damiano mi viene da farti qualche domanda prendendo spunto da alcune cose che hai detto passando un po' dal festival anche in generale sull'attività di Alcantara un'attività soprattutto nel festival questo è il quarto anno mentre invece l'attività di Alcantara come mi accennavi è molto più lunga l'importanza sia di contaminare la città quindi di risvegliare anche in quello che è diciamo la nostra vita quotidiana degli elementi anche di bellezza di infanzia e nel contempo un altro messaggio che colgo molto importante è quello dell'autonomia per i ragazzi che forse in questo periodo diventa ancora più importante direi che per noi è fondamentale ma è un progetto di vita se vogliamo non è solo nel teatro ed è chiaro che diventa importante se io riesco a sviluppare determinate possibilità come individuo possibilità che ci sono che è quello di utilizzare me stesso al meglio e quindi il teatro per noi è fondamentale per scoprire che cosa posso fare in relazione alla mia gestione della vita che in questo momento è del palco non è della vita insensolato però è lo stesso io mi rapporto con l'altro mi rapporto con un progetto mi rapporto con una storia da raccontare che è condivisa che è condivisa in uno spazio dove non c'è riserve non ci sono riserve siamo tutti protagonisti perché il gruppo è protagonista in scena e quindi diventa fondamentale l'autogestione cioè l'adulto in scena non c'è come non c'è adesso per esempio quando incontreranno Galiano nel loro rapporto proprio di intervista di piccoli quasi conduttori radiofonici ti rubano il lavoro no no ma faranno sicuramente meglio di me non ho davvero alcun dubbio come è stato lavorare con i ragazzi quest'anno soprattutto come sono stati i ragazzi in quest'anno difficile? allora i ragazzi al plurale diciamo che noi lavoriamo con bambini e ragazzi quindi i più piccoli forse rimangono comunque all'interno di una tutela di una loro bellezza di un loro sogno rimangono dentro a uno spazio ancora magico per fortuna ce l'hanno e forse non hanno ricevuto in maniera così forte la chiusura rispetto quantomeno agli adolescenti ecco diciamo che gli adolescenti hanno sofferto parecchio hanno sofferto parecchio anche perché sono arrivati forse a un momento in cui hanno valutato stare a distanza come un modo per non sbilanciarsi nei confronti della vita di se stessi quasi una tutela quasi una chiusura quindi questo potrebbe essere un dato abbastanza pericoloso perché diventa una didattica a distanza non è educazione non è formazione come dicevamo prima è più un passaggio di nozioni ma senza la presenza del maestro quindi di fatto forse con gli adolescenti si è sentito molto di più questa questa rottura questa esigenza di abbracciarsi di puntare l'attenzione sulla relazione che è anche altro è veramente altro Damiano io ti ringrazio davvero tanto per averci raccontato la vostra attività sia per quello che ci aspetta nei prossimi giorni ricordiamo a partire dal 14 maggio fino al 2 luglio insomma questo è un po' diciamo il ventaglio delle tante attività che vi ricordo trovate sul nostro sito newsrimini.it sulla nostra pagina Rimini Sociale e ovviamente anche su tutti i canali social di Alcantara Teatro Damiano dove vi trovano? Chi volesse approfondire diciamo oltre quello che abbiamo detto? a Youtube, nostri canali, Facebook e Instagram tutti e tre siamo lì siete lì sul sito www.filoperfilo.it Damiano grazie mille grazie davvero tanto per averci raccontato e soprattutto per aver organizzato questo festival che ci piace sempre tanto grazie mille a te e a voi